Il bimbo aveva fame, quindi ho deciso di fargli un bel tortino in soli 5 minuti con farina, cacao, lievito, latte, yogurt e albume, mischiati con un cucchiaio e anche con un dito. Cotto velocemente in microonde perché il bimbo già stava rischiando il catabolismo. Quindi ho eseguito svariati controlli qualità a colpi di cioppi cioppi per il bene della scienza, prima di decorarlo con la cosa che preferisce di più al mondo. Dopo di me ovviamente! Ta-da! La merenda è pronta, super facile e super veloce. C'è un rossetto merda, il verdetto è positivo.